La prima con Raspaduri al posto di Ossiman che avete giocato da quando c'è lei? Risolvere tutti i problemi ci vuole un mago. Giochiamo così tanto che ci alleniamo poco, si va per priorità, si cerca di mettere a posto la fase difensiva. Curiamo un pochino meno la fase offensiva, ripeto, perché è una questione di tempo. Però ci siamo arrivati vicino alla porta, magari abbiamo concretizzato male, però io della prestazione della squadra sono molto contento. Prego. Buonasera, sono Alessandro Cardito, buonasera mister, buonasera dottore. Seduto perché c'è la telecamera. Pardon, chiedo scusa. Chi ha detto che scusi lei? Alessandro Cardito del Napoli Online di Alessandro Sacco e Pino Sacco. Dunque, mister, buonasera innanzitutto. Buonasera. Sul lato dell'attacco, faccio una domanda che va oltre la cronaca, no? C'è un allenatore degli attaccanti nel vostro team che faccia il monitoraggio delle percentuali realizzative medie. Se esiste questo monitoraggio per poi andare sul campo a migliorare nel microciclo settimanale. Ma non c'è bisogno perché si vede a occhio nudo che dobbiamo essere più incisivi sotto porta. Ripeto, anche se ci fosse, abbiamo talmente poco tempo che sistemare tutto e risolvere tutto è difficile. Se tieni conto che sette partite, credo, in 24 giorni sono un'infinità. Se poi ci metti i giorni di recupero, i giorni di preparazione alla partita, credo che si sia fatto sette allenamenti tattici o sei in 24 giorni. Sono pochi per mettere a posto tutte le problematiche che magari abbiamo. È solo il tempo. Per me non è un alibi. Questo è oggettivo. Ci vuole il tempo per sistemare un po' tutto. Quest'altro signore, chi è lei? Buonasera, Ministro. Ivan Cardia di Tutto Mercato Web. Alla fine abbiamo visto un dialogo tra Juan Jesus e l'arbitro. Sembrava fare riferimento a qualcosa che avesse detto a Cerbi. Volevo chiederle se ne ha parlato con il giocatore. Ti dico la verità. Juan Jesus era fuori dallo spogliatoio. L'ho incrociato quando stavo venendo qui in sala stampa. Mi ho solo fatto i complimenti per la prestazione. Ma non mi ha detto niente. Non so assolutamente niente. Questo signore con gli occhiali. Lei è? Maurizio Fizzoferrato, agenziale. Prego. Buonasera. Salve, Ministro. Buonasera. Lei ha detto che avete avuto poco tempo per lavorare sul campo dal punto di vista tecnico e tattico. Però volevo sapere se, perché mi pare che alcuni giocatori siano un po' più liberi mentalmente, se hai avuto possibilità appunto di fare un lavoro psicologico, che rapporto hai instaurato con questo gruppo? Ma questi ragazzi in questi mesi hanno talmente sentito tanti discorsi, tante parole, che io ho detto pochissime parole. Io ho detto che si devono liberare di tutte le problematiche, che ci sono io che mi prenderò carico delle problematiche. E niente, ci siamo messi subito a lavorare. Ho parlato pochissimo, perché secondo me non era producente in questo momento parlare, perché io sono il terzo allenatore. Immagino quanti discorsi sono stati fatti in passato e penso che questa era, diciamo, la migliore soluzione. Maiello Pietro, casa Napoli.net. Buonasera mister, complimenti ancora per questo match che è stato abbastanza allottato tantissimo la squadra ed è stato veramente sudato questa sera, possiamo dirlo. La domanda per cortesia. Per quanto riguarda il percorso che le ha fatto fino ad ora, fino ad oggi, ha fatto già delle riflessioni sul suo futuro in merito a questo? Guarda, c'è talmente tanto da fare, come dicevo prima al tuo collega, che io non ho tempo nemmeno di parlare con la famiglia. Ho una bambina di sei anni che sento una volta al giorno, qualche volta nemmeno quella. Ho talmente tante cose da fare che mi fai una domanda che non ci penso e in questo momento ti dico anche la verità, non mi interessa. Poi oltretutto ho un contratto con la federazione fino al 2025, loro sono stati i primi a credere in me, mi hanno dato tanto, non mi hanno mai fatto mancare niente, per cui io porto il rispetto a loro, come loro fanno con me.